Su quattro figlie ne ho regalate tre a uomini figli di immigrati. Non è certo che mi si dia del razzista. Chi l'hai detto che sono nero? Hanno una faccia. Viviamo in un paese magnifico. Siete d'accordo? Io ho problemi in Francia. Con Odilla abbiamo deciso di trasferirci in Israele. Io e ciao andremo in Cina. Noi in Algeria. Oh signore. E noi a Bombay. In India? Il paese dove la gente si inchina davanti alle facche? Se le nostre figlie vogliono abbandonare la Francia, noi glielo impediremo. Stinga, stinga, stinga! È bello nero, come un senegalese. Sì, sì, è vero. È particolarmente... Certo che è molto nero. Ti dà fastidio? No, assolutamente no. Visto che l'ore è decisamente bionda, stavo pensando che... Constatavo. Era una constatazione. Avremo ancora il diritto di constatare in questo paese o no? Sì, 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 sì. E allora io constato. Ehi, ma già conosciuto!